direi abbastanza bene nel senso abbiamo provato le nostre cose le cose che stiamo cercando di provare in allenamento a qualche volta ci è uscito qualche volta no ma comunque anche una questione di conoscenza nel senso non è da tantissimo che ci alleniamo insieme però adesso non c'è devo dire che secondo me abbia fatto una buona prestazione beh sicuramente il progetto il fatto di comunque di avere direttore ho parlato col direttore per venire mi ha spiegato quali sono più o meno gli obiettivi cosa vogliamo raggiungere quali sono le potenzialità della squadra poi tanti giocatori comunque anche i nomi dei giocatori mi hanno aiutato a scegliere molto più facilmente la verità però comunque sapevo che questa è una società nuova ambiziosa che punta a far bene in un futuro quindi anche io sono uno ambizioso che vuole far bene e la scelta devo dire che non è stata molto molto difficile a parte il bella zona del campionato non penso che ci sia sicuramente ci sono scuole in bici sono scuole competitive però penso che le scuole forte in ci siano altrettanto competitive rispetto a quelle dovrebbero quindi non c'è tutta questa grandissima differenza oltre al campionato perché una si parte di serie b e si tratta di serie c